Lei ha ribadito il suo no al governo Draghi, mi ha detto che sarete utili, ma in questo momento chi vuole bene all'Italia non tifa per Mario Draghi? Sì, ma non è che per tifare c'è bisogno di avere un ministero o tifare un inciucio. Quindi il vostro no è dettato dal fatto che altrimenti vi avrebbero proposto un ministero? No, il nostro no è dato dal fatto che ci sono delle cose in Italia che noi dobbiamo smettere di considerare normali, come il fatto che l'Italia debba essere considerata una democrazia di serie B, un posto nel quale i cittadini non possono scegliere a chi farsi rappresentare. Noi siamo in epoca di Covid, ma in tutta Europa e in tutto il mondo votano quando scadono le legislature e anche quando ci sono elezioni anticipate, come sta accadendo in queste settimane. Nessuno si è posto il problema che non si possa votare. E guardi, del resto, è un tema interessante perché c'è il Covid ma noi continuiamo a fare delle cose che consideriamo necessarie. Andiamo a scuola ai nostri figli, andiamo a lavorare, andiamo dal parrucchiere. Ecco io penso che la democrazia sia una cosa parimenti necessaria. Invece qui ogni volta ogni scusa è buona per non votare perché così gente che non vince le elezioni e che non vincerebbe le elezioni da dieci anni può continuare a governare sulla pelle degli italiani. E questo che è presentabile? Secondo me non è presentabile. Oltretutto c'è questa questione che porta un grande problema di merito. Io ho promesso che non sarei andata al governo con la sinistra e non andora al governo con la sinistra perché con la sinistra io non ci posso fare niente di buono. E perché purtroppo questo Parlamento ha una maggioranza che continua a essere nelle mani del PD e del Movimento 5 Stelle. Quindi alla fine per quanto si possa tentare di fare il governo tutti insieme, sempre loro decidono. E questo non è una buona notizia. Ci sarà anche la Lega, anche Forza Italia. Sì, ma noi siamo una Repubblica parlamentare. Sa che cosa significa? Significa che i provvedimenti passano dal Parlamento. E magari sono provvedimenti straordinari quando vengono pensati, ma poi devono essere votati. Ma nello stesso Parlamento ci saranno anche... Se mi fa finire glielo spiego però perché è una cosa facile. Ci sono dei provvedimenti e c'è una maggioranza ampia. Si arriva in Parlamento. In Parlamento si fanno delle proposte. Si vota articolo per articolo, emendamento per emendamento. Ok? Perfetto. Nel governo ci sono quasi tutti. Mettiamo che c'è una questione divisiva. Sa che cosa accadrà? Il Parlamento in aula dice, mi rimetto all'aula. Il Parlamento vota. Sa chi vince? 5 Stelle e PD. Perché il centrodestra è minoritario. E allora io non mi sento rassicurata da un governo, sono figure per carità, spero, il più autorevoli possibile, con un Parlamento che però alla fine in una Repubblica parlamentare, viva Dio, è quello che decide, nel quale comandano sempre 5 Stelle e PD. Ma non sarebbe stato meglio stare in questa maggioranza, seppur minoritaria, per poter avere maggior voce in capitolo, per portare avanti appunto quei provvedimenti che voi reputate positivi e utili all'Italia? No, intanto perché è più utile e più incisivo il ruolo di una opposizione che il ruolo del piccolo partito nel governo di tutti. I numeri non cambiavano in maggioranza, sempre la maggioranza 5 Stelle e PD avevano, anche se Fratelli Italia fosse entrata nella maggioranza di governo. Per cui il nostro ruolo sarebbe stato totalmente influente in maggioranza, ma può essere influente dall'opposizione, perché sempre le dinamiche parlamentari dicono che quando si ha un'opposizione si tende a mediare, oltretutto. Qui pare non interessare a nessuno, ma se non c'è un'opposizione, non è una democrazia. I regimi totalitari non hanno un'opposizione. Anche i scelti produttivi, gran parte delle imprese, o comunque quelle persone a cui lei spesso si rivolge, in questo momento sono a favore di Mario Draghi? Guardi, allora diciamo che i scelti produttivi, io parlo con tantissimi imprenditori, ci sono quelli che sono a favore di Mario Draghi e quelli che volevano votare, e ci sono quelli che sono d'accordo con noi. In questo momento però è un dato di fatto che non si voterà, ecco. Ma è un dato di fatto sulla base di cosa? C'è un dato di fatto sulla base che c'è stata una scelta politica. Io contesto la scelta politica, sarò libera di farlo. O in Italia qualsiasi cosa ci dicono che si deve fare, noi la dobbiamo fare, punto. Perché è questa mentalità che io non condivido. Rivendico il mio diritto a dire che non sono d'accordo. Una settimana ha detto che la posizione di Fratelli d'Italia, quella appunto di fare un'opposizione costruttiva, come l'avete definita voi, sia un modo anche per aumentare i consensi. Guardi, allora, a parte che uno si deve pure mettere ad accordo, perché se mi dite che sono tutti con draghi e poi mi dite che aumentiamo i consensi, decidetevi. O stanno tutti con draghi, o stanno tutti contro draghi. Lei ha rivendicato la coerenza di Fratelli d'Italia? Io rivendico la serietà di una forza politica che si assume la responsabilità di fare quello che dichiara. E anche questo mi fa specie che sia considerato impresentabile. Perché per me è presentabilissimo. Per me impresentabili sono quelli che dicono una cosa e fanno l'esatto contrario dalla mattina alla sera. Sa perché? Perché anche qui la democrazia è un meccanismo facile. Ci deve essere un vincolo tra chi è rappresentato e chi rappresenta. Se quel vincolo si rompe, perché io ti dico una cosa, tu mi sostieni perché io farò quella cosa e io faccio tutt'altro, non c'è più la democrazia. Ora, io questa roba qui non la condivido. Lui sono una persona che rivendica la sua serietà. Se dico una cosa, la faccio. Dopodiché non faccio calcoli elettoralistici perché appunto sento dire tutto il contrario di tutto. Credo che gli italiani possano essere comunque contenti di sapere che in un panorama politico nel quale tutti sono foglie al vento c'è qualcuno che rimane fermo, di cui ti puoi fidare che tu condivida o no la posizione, quella è e quello succederà. Non c'è trucco e non c'è inganno. Non ci sono prese in giro. Io penso che questo sia un valore nella politica di oggi perché gli italiani sapranno che di fratelli d'Italia si possono fidare. Poi ripeto, uno può essere d'accordo o non essere d'accordo con le scelte che si fanno, non sono scelte facili per nessuno in questo momento, però io considero che questo sia un grande valore. Il centrodestra si spacca un'altra volta, sì. Centrodestra si spacca un'altra volta, si divide su questa scelta complessa, anche qui, ripeto, lo sappiamo, non polemizzo con i miei alleati, mi rendo conto delle difficoltà. Oggi Mario Draghi ha parlato di flat tax, ha detto no alla flat tax, che era uno dei cavalli di battaglia di Matteo Salvini, che rimane vostro alleato politico come centrodestra. Come vi porrete voi rispetto a una situazione di questo genere? Questo lo devi chiedere a Matteo Salvini. Io non ci vado al governo anche perché francamente non sono certa che poi queste ricette di Mario Draghi siano così vicine alle nostre e da quello che ho sentito mi pare che ci siano diversi temi che poi rischiano di non essere sovrapponibili con i nostri. dall'idea che si ha di Europa fino alle questioni appunto del fisco. Mario Draghi, come lei correttamente ricorda, ha escluso la flat tax, che era la nostra principale battaglia in materia di fisco. Per cui però io so l'opposizione, mica ci sto in maggioranza. Quindi Salvini non è stato coerente? Anche per queste ragioni. Questo lo deve chiedere a Salvini e spero che Salvini se entrerà nel governo riuscirà a far cambiare a Mario Draghi impostazione. Ma sarà difficile per le ragioni che le ho spiegato. Cioè, alla fine se Mario Draghi deve cercare una sintesi e la sintesi si fa anche sui pesi, nell'attuale Parlamento i pesi in mano ce li hanno il PD e 5 Stelle. E sa qual è l'unico modo per risolvere questo problema? Gravissimo che gli italiani hanno. Le elezioni.